Questa è una sensibilità vera e non fittizia perché i nomi hanno un'energia e quando tu intitoli una sala in un luogo come questo, come San Giovanni a Teduccio, come Barra, che è un luogo di frontiera, una sala con il nome di Giovanni Battista Cutolo che emana un'energia della legalità, hai fatto una cosa molto importante per la città, quindi grazie, grazie davvero. Il Centro Giovanile Asterix a San Giovanni a Teduccio è uno spazio aperto per attività socioeducative, culturali e informative. Numerose sono infatti le iniziative nel campo della musica, degli audiovisivi, delle attività ludiche e di animazione e della danza. Dopo l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale, proprio qui nella sala teatro oggi è stata scoperta la targa in ricordo del giovane musicista napoletano Giovanni Battista Cutolo, ucciso in piazza a municipio lo scorso 31 agosto, con una cerimonia alla quale hanno preso parte un gruppo di bambini del quartiere Barra, con una canzone dedicata a Giovanni Battista. Per fortuna abbiamo contezza oggi che veramente GioGio ha creato la rivoluzione GioGio, perché ovunque si stanno dedicando aule, la musica sta facendo darvi vista e in questo territorio così martoriato, così ancora veramente dedito all'illegalità, avere un'aula con il nome di Giovanni Battista Cutolo significa che la sua cifra valoriale sta aiutando tantissime nuove generazioni. Per fortuna da dieci mesi sto andando in tantissime scuole perché mi stanno chiamando proprio per parlare al cuore dei ragazzi e quando mi accorgo nei loro occhi che veramente iniziano a capire che è molto meglio prendere come influencer Giovanni Battista e non il suo killer, tu capisci che allora quello che sto facendo e quello che stiamo facendo dopo la morte di GioGio ha un senso e questa è una cosa che mi riempie di gioia. Grazie a tutti.